Sono trascorsi 5 anni da quando una valanga spazzo via all'hotel resort di Rigopiano uccidendo 29 delle 40 persone che vi si trovavano tra dipendenti della struttura e vacanzieri. Il 2022 potrebbe essere l'anno della sentenza nel processo ai 30 imputati accusati a vario titolo di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico. Oggi anche Chieti e Montesilvano hanno ricordato i propri concittadini rimasti sepolti da neve e macerie. Nel capoluogo teatino cerimonia il monumento di Via d'Aragona per ricordare il poliziotto Dino di Michelangelo. Col tempo il dolore non si affievolisce ma aumenta, ci ha detto il fratello e collega Alessandro. Dolore doppio per quanto riguarda me, ma è un dolore che comunque con il tempo non si affievolisce ma piuttosto aumenta. Aumenta in che termini? Nei termini della ricerca, della verità che diventa quasi come un obiettivo primario. Metti da parte tutto il resto della tua vita, i progetti. A proposito di ricerca della verità, lei ha fiducia nella giustizia? Certo, fiducia l'avevo sempre, l'ha avuta sempre. Essendo anche un appartenente alle forze dell'ordine posso sentirmi con la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che c'era da fare a livello di parte civile, a livello di fratello e come cittadino, al punto da sposare in pieno come famiglia tutte le teorie e tutte le scelte processuali della procura della Repubblica di pescare. Ovviamente qualcuno dovrà prendersi le responsabilità di quello che è potuto accadere dopo e che avrebbe potuto portare al salvataggio di più persone. Sette i montesilvanesi che si trovavano nel resort, due di loro, Bianca e Tobia Foresta, non sono sopravvissuti. Sono state ore e giorni molto duri perché inaspettati. Erano persone che erano andate soltanto per fare due giorni di riposo e invece il loro riposo poi è durato in eterno. Speriamo che, sentite anche le parole del procuratore capo, che quest'anno sia l'anno della svolta, sia l'anno dell'accelerazione definitiva perché ce lo meritiamo e se lo meritano soprattutto le 29 persone che purtroppo oggi non ci sono più. A Montesilvano un anno fa è stato inaugurato un giardino in ricordo delle vittime. Dobbiamo fare in modo che quella tragedia non si ripeta mai più, ha detto il sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara. Un'area verde che è frequentata da tanti bambini e ragazzi ha sicuramente un significato, ossia quello di rappresentare il bello della vita ed è quello che in qualche modo anche i familiari oggi vogliono venga ricordato. Questo giardino, al di là di questo significato, poi è della bellezza che rappresenta, vuole essere anche da monito affinché quello che è successo, quella stessa tragedia, in futuro non si ripeta più.